«Dottore Elisa, di Monica. Non c'è nessuno? Non c'è nessuno?» rimbambò nuovamente la voce nell'androne dell'officina meccanica. Elisa ebbe un brivido, che raggelò persino il carrello dove era sdraiata, nonostante fosse un giorno torrido. «Arrivo, solo un momento!» disse senza convinzione. «Porca di quella miseria, non può essere lui, no! Adesso esco e gli faccio vedere che sono io!» «Non c'è nessuno?» si era avvicinato a lei. Si alzò e con una mano si spalmò olio e sudore, nella speranza di non essere riconosciuta. Sapeva che sarebbe arrivato, aveva fatto di tutto per non incontrarlo, facendosi cambiare i turni. Lui voleva incontrarla, lei no. «E chi credi che io sia?» «Eccoti la famosa dottora di cui si parla nei circuiti. Vedo che ne hai fatta di strada dai disastri con gli ingranaggi dei motorini ciao nel cortile di casa. Ne ho fatta di strada per allontanarmi da te, dal tuo ridermi in faccia perché mi ostinavo a giocare con i motori. Hai varcato il portone chiedendoti «Nessuno!» «Eccomi presente, la dottora di Nessuno!» «E la prossima volta che tornerai, fammi il favore di entrare dicendo, c'è qualcuno?» «Eccomi presente, la dottora di Nessuno!»